forza vera ragazzi verso Bologna domani ricomincia il campionato Bologna-Fiorentina alle 12.30 bene ringraziamo intanto rispettivamente Lazio e Verona che hanno battuto Brescia e Spal quindi la zona retrocessione rimane per adesso a più 3 per la Fiorentina con una partita in meno quindi domani è fondamentale giornata importante sia ieri che oggi video pieno di argomenti partiamo, intervista a Chiesa beh l'intervista è stata un'intervista un po' fine a se stesso, non si è parlato di futuro non si è parlato di prolungamento di contratto si è parlato un po' della stagione in corso il giocatore vuole arrivare all'Euro 2020 a guadagnarsi la qualificazione, sa che per farlo deve giocare bene e se gioca bene ci aiuta a noi perché gioca nella Fiorentina quindi questo è sicuramente positivo poi hanno parlato un po' della sua esperienza in Viola, del fatto di essere bambino, raccattapalle, paragone col padre quindi direi che è piuttosto un'intervista a livello di vita calcistica e personale per quanto riguarda Chiesa ha detto delle belle parole su Comisso è un presidente che gli piace però di concreto a livello di futuro non c'è niente sicuramente mette del sereno su questi musilunghi che ci si portava da quest'estate è arrivato Comisso a Firenze subito grande entusiasmo per lui pranzo con la squadra, non si è parlato di mercato se ne parlerà domani dopo il match naturalmente ha detto che si aspetta un regalo io spero che questo regalo Comisso lo possa ricevere successivamente la partita di domani si parlerà del mercato mercato che entra un po' nel vivo Cutrone è un giocatore della Fiorentina ve l'ho detto e ridetto anche ieri non è stato convocato nella FA Cup quindi a maggior ragione confermo che Cutrone probabilmente già il 7 sarà a Firenze per le visite mediche o l'8 una settimana molto importante Borini più di un'idea anche Borini è un'uscita dal Mina a scadenza del suo contratto a fine anno si potrebbe cercare di prenderlo prima dato che comunque non trova spazio quindi ve l'avevo già detto qualche giorno fa ieri Sky l'ha scritto Fiorentina forte su Borini io l'avevo già immaginato qualche giorno prima vi do due chicche di nomi dato che dobbiamo comunque migliorare la rosa e per migliorare la rosa ci vogliono giocatori anche forti e a livello internazionale ci sono due giocatori interessanti che sono in uscita dalle proprie squadre uno è Mariano Diaz del Real Madrid dell'altro è Batshuay del Chelsea è vero sono giocatori che guadagnano tanti soldi però più che Mariano Diaz parlo di Batshuay perché è in uscita dal Chelsea gioca pochissimo è un attaccante comunque forte è un 26enne a caratura internazionale i rapporti con il Chelsea e la Fiorentina li ha rimediati li ha riaperti potrebbe essere anche un'idea è un attaccante forte perché no la Fiorentina ha già fatto operazioni del genere ricordando un certo Salah quindi magari alzare un po' la stricella anche sui nomi di mercato e non aspettare sempre questi gol da Niga Duncan e quant'altro molto forte quindi su Borini dico che è uscito anche un altro nome per l'attacco e Pinamonti in uscita dalla Genoa il Milan ha chiesto l'accessione immediatamente dal Genoa perché il Genoa gioca male Pinamonti sta giocando male perché la squadra del Genoa gioca male e ci è forte anche lì la Fiorentina si parlerà naturalmente della partita di domani con Iachini in conferenza stampa la prima conferenza stampa del nuovo mister che ha detto non la bacchetta magica sono contento sono carico sono pronto c'è tanto entusiasmo vogliamo Bassi perché non posso pretendere perché in sette giorni di allenamento i miei giocatori abbiano capito tutto quello che volevo fare ovvio l'ha detta su questi sette giorni ce ne potevamo avere tanti altri ma i giocatori mai avevano le ferie programmate e quindi abbiamo lavorato un full immersion molto aggressivo in questi sette giorni dove sicuramente abbiamo aumentato i carichi di lavoro abbiamo aumentato anche a livello fisico la forza e la resistenza ovvio l'ha detto facendo un punto dopo queste partite qualcosa di sicurezza a livello mentale la perdi ed è lì che Iacchini sicuramente avrà lavorato è stato molto bello oggi l'allenamento in chiusura ha radunato tutta la squadra in cerchio sicuramente avrà parlato domani che sensazioni avete ragazzi domani per il Bologna ma io vedo una squadra che è pronta a rimettersi in riga tracciamo una linea su quello che si è fatto fino adesso fatto male programmato male le colpe le abbiamo già più volte dette ripetute ognuno si insomma le proprie responsabilità comisso è qui si aspetta un regalo io spero che la squadra faccia questo regalo a comisso e anche a noi Iacchini mi è sembrato fiducioso per la perdi domani ma molto realista si aspetta comunque che alcuni concetti vengano capiti per il resto ragazzi se la Fiorentina giocasse da Fiorentina e gli attaccanti segnino e quant'altro beh Bologna non è certamente l'Inter però è un campo ostico è un campo difficile però la Fiorentina deve provare a fare la partita io sarei già contento se riuscisse a prendere un punto ma un punto meritato dove riusciamo a giocare per 90 minuti a pigiare in continuazione a pigiare in continuazione perché lì è lì il fondamentale è lì il carattere mentale l'aggressività agonistica che per ora non c'è stata altra cosa a livello di tatticismi su Iacchini gli è stato chiesto Pulgar e Badel possono giocare insieme? risposta no perché coprono lo stesso ruolo di campo quindi domanda perché Montella li ha sempre fatti giocare insieme? ovvio ogni allenatore vede i giocatori come meglio crede però è vero Badel e Pulgar cioè Badel faccia lo stesso ruolo alla Fiorentina Pulgar l'ha fatto sempre al Bologna abbiamo messo due gali in un pollaio probabilmente anche lì forse Montella non avendo altre scelte o non fidandosi di altri giocatori ha scelto sempre ero due ma forse questo ne ha un po' risentito la squadra infatti io domani prevedo che Benassi parte dal primo e penso che Badel sia destinata alla panchina e che Pulgar parte dall'inizio queste sono le mie sensazioni ragazzi per il resto scrivetevi al canale seguitemi su Instagram domani sarà la giornata in cui tireremo le somme anche della partita della Viola attivate la campanella mettete un bel pollicione per il resto ragazzi sempre Forza Viola ci vediamo domani sperando di fare un bel video gioendo per la vittoria della Viola ciao ragazzi sempre Forza Viola Grazie a tutti